Stalking, molestia, diffusione di materiale pedopornografico, truffe online e minacce di tipo eversivo e terroristico riconducibili al fondamentalismo religioso. E' questo il lungo campionario di reati informatici affrontati anche in Toscana dalla Polizia Postale e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica che hanno diffuso il bilancio dell'attività 2023. Nell'ultimo anno il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Postale ha denunciato 35 persone ed effettuato un arresto per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online, 4 le persone denunciate per aver adescato sempre sul web minorenni. Nell'ambito dei reati contro la persona perpetrati sul web sono state indagate 67 persone per aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestia e minacce sui social network oltre che diffamazione online, episodi che hanno riguardato anche vittime minorenni. Inoltre sono stati trattati 13 casi di codice rosso, 36 poi le persone indagate per reati economico-finanziari commessi attraverso la rete. Sempre più sofisticate anche le cosiddette truffe romantiche che vedono come vittime soprattutto donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Significativo l'aumento del fenomeno delle truffe legata al trending online ha finalizzato la captazione illecita di codici personali e dati sensibili. Tra le attività della Polizia Postale, infine anche quella di sensibilizzazione e informazione sui rischi che si corrono online. Nel 2023 hanno coinvolto circa 20.000 studenti, 3.000 genitori e 1.500 docenti e sono stati svolti anche incontri informativi per la prevenzione delle truffe agli anziani. Ad Arezzo l'attività della Polizia Postale ha potuto contare per anni anche sulla professionalità del sostituto commissario responsabile Walter dell'Arciprete, arrivato in città nel 1985 e che il 31 dicembre 2023 ha prestato servizio per l'ultimo giorno prima della pensione.